5 4 3 2 1 e 3 17 incontri e adesso si si attenzione al vicolo perché comunque non è chiuso al pubblico con il titolale numero 3 con il titolale numero 3 è pronta a partire Irene Piagginella il suo team è in scarpa avanti vincitori di numerose gradi signori Filippo Genetta l'espevente di numerose gradi Filippo Genetta L'espevente di numerose gradi ma se bevi, guicci e solda, volo che siete risultati guadagnolo, rock and roll, tu giochi a freddo ma è stato che non prendi a me, chi te mi farà la posetta di mamma, tu vuoi fare megano, megano, megano facci la vita lì, senza me, non c'è questa gente la fa la posetta di mamma, tu vuoi fare megano, tu vuoi fare megano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti